buongiorno a tutti ragazzi buongiorno 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 buongiornissimo allora iniziamo questo video che si era bellissima estrazione dedicata a tutti quei cinghialotti del web io li chiamo cinghialotti ma non perché il cinghiale è un animale che mi sta antipatico anzi molto buono anche ma ci sono quei cinghialotti di youtube che purtroppo non avendo niente da offrire perché sono frustati tutti i giorni seduti su una sedia tutto il giorno senza fare nulla e allora scatenano la loro la loro stupidità sul web no io li chiamo i cinghialotti cinghialotti quelli ti accusano sempre sapete ti guarda con quel muso cinghialotto ti guarda così poi ha paura allora fa due passi che sono indietro con quella coda che scodinzola quella faccia un po che assomiglia al maialino e vanno su youtube e sparano quattro cavolate vabbè ma questi è cioè ci sono anche loro sono anche le persone sono persone frustate che ripeto tutto il giorno seduti su una sedia si stanno pure inchiattando stanno la girano i pollici buongiorno buonasera buongiorno buonasera non c'è niente da fare vanno su youtube è gente che in tanti anni iscritti sul canale youtube non arrivano manca 10.000 iscritti un motivo ci sarà allora detto ciò però vabbè c'era un detto che diceva che si parla bene o si parla male importante che se ne parla e loro quando parlano di me io godo perché vuol dire che il fegato gli si sta marcendo e si sta proprio bubom 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 si sta marcendo va bene allora detto ciò non sprechiamo troppo tempo con ste persone facciamo vedere una cosa dedicato al cinghialotto del web poi ci sono altri che fanno post video dove lambata la misera ambata noi non lambata noi la misera ambata poi esultano perché nei loro gruppi fanno vincere le ambate che ripeto per noi sono un'ottima vincita e questa la dedichiamo al cinghialotto cinghialotto eccola qui che poi ogni tanto quella crema che pubblicizzi usala perché sennò ti viene veramente il bruciore parte che ti dovresti dare una regolata pure nel magna perché tra un po io sarò pure basso di statura e ringrazio madre natura che mi ha fatto basso di statura almeno riesco a passare da ogni porta ma te se continui a mangiare così è altro che cinghialotto va bene allora bellissimo ambo ieri 27 16 stiamo guadagnando e sì ragazzi stiamo guadagnando questi danno fastidio ma noi stiamo guadagnando ma state guadagnando anche voi perché ricordatevi che a questi a questo soprattutto a questa persona gli dà fastidio che noi stiamo guadagnando gli dà fastidio e allora cerca prima è iniziato col servizio telefonico di stare attenti perché il nostro servizio telefonico egli è andata male adesso le nostre tecniche sono bla 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 i nostri iscritti sono gli dà fastidio ma noi stiamo guadagnando ma stiamo guadagnando grazie a voi che state incassando altrimenti se un lottologo fa la fame è evidentemente anche chi lo segue sta facendo la fame ma che gli volete di a una persona del genere ho fatto pure il post cinghialetto ma che gli volete dire che si è portata a casa 1200 e passa euro ma che gli volete dire quando io a questa persona io questa e molte altre tutti gli scontrini sono postati nella mia pagina facebook e volete che queste persone che hanno vinto non chiamino il servizio telefonico non si abbonano a 40 suonatori lotto non si abbonano amato lotto certo certo perché il lottologo guadagna se il cliente in cassa poi c'è la previsione che non esce come tutti anzi a qualcuno no qualcuno riescono tutti però questi sono i risultati allora ragazzi detto ciò 27 e 16 grazie a tutti grazie 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 perché il lavoro va il lavoro va pagato che non penso che qualcuno sta seduto la su quella sedia tutto il giorno lo fa gratis il lavoro va pagato abbiamo messo in vendita questa tecnica bellissima che ha fatto il 27 e 16 la tecnica infallibile soltanto fino a sabato stamattina cinghialotto vanno in vaso di chiamate ne abbiamo vendute io e giantolo tantissime e sono sicuro che queste persone che l'hanno acquistata guardando quello che fa la tecnica non in quattro mesi di gioco è che la tecnica non deve funzionare quattro mesi ovvero un giochino sì bello se funziona quattro mesi ma una cosa che si vende non deve funzionare quattro mesi deve funzionare nel tempo e soprattutto deve continuare a funzionare tutte queste persone che hanno acquistato questa tecnica sicuramente ci avranno fatto guadagnare ma anche loro guadagneranno perché poi io nei miei video fortunatamente quando c'è qualche vincita faccio sempre vedere da quale tecnica arriva ok a differenza di molti allora passiamo al quadro estrazionale passiamo alla previsione che io vi sto gentilmente donando il 90 non si è visto vedete noi non è che cambiamo è questa poi se sortirà se sortirà benvenga tutti contenti tutti contenti tutti allegri se non sortirà cosa che il pinghialotto se lo augura ma sapendo che non fa dispetto a me ma fa dispetto a voi che la giocate ovviamente saremo tutti rammaricati e allora solo a quel punto cambieremo previsione ma per il momento questa è una previsione che è in corso ok ed è in gioco per voi che mi seguite di youtube rimane la seconda previsione che quella con l'86 genova milano con 66 e 69 allora ragazzi poi non vi perdete perché più tardi ci sarà pure un video di maurizio jantolo sapete che maurizio jantolo sta sempre zitto ma quando va in video maurizio jantolo poi poi voglia i messaggi no ma scusa ma io non volevo sono stato uno stupido io di qua poi quando va maurizio jantolo e poi sono dolori ciò non perdete la diretta dopo di maurizio jantolo allora ragazzi questa è la tecnica eccola qua guardate che bella copertina che abbiamo fatto grande maurizio jantolo non c'entro niente con la copertina io è la copertina l'ha fatta il nostro grafico personale in collaborazione con maurizio jantolo bella una bella una bella copertina la tecnica infallibile ovviamente è una tecnica che non non è che funziona da tre mesi a due mesi da quattro mesi funziona da anni saluto tutto il mio staff intanto in particolare il grande orazio io lo chiamo il mio batterista perché è colui dove io e lui curiamo e costruiamo le nostre tecniche ormai da anni orazio il fedelissimo questa la potete trovare mandando un messaggio su whatsapp allora ragazzi servizio telefonico facciamo chiarezza nel nostro servizio telefonico abbiamo lo special 42 il solito 26 ve l'ho già detto ieri anche se è uscito il 26 non vi preoccupate noi numeri vi faccio vedere soltanto una cosa visto che voi pensate alla guardate guardate a cagliari ieri 42 e 39 e guardate il 9 aprile a cagliari 42 39 vedete lo stesso ambo ma non perché il gioco dell'otto è truccato è truccato perché i numeri possono uscire ogni qual volta che inizia l'estrazione ok perciò anche se avete visto il 26 non vi preoccupate detto ciò abbiamo inserito per oggi e per domani il 39 il 39 stellare avete già preso l'ambo secco a inizio mese con 34 e 39 perciò perciò non fatevi scappare questa previsione col 39 che la trovate nel servizio telefonico fino a domani poi la togliamo ok ragazzi sempre positivi e un saluto particolare al cinghialotto del web che guarda ogni nostro video ciao